Il Ciaf Dipartimenti Nazionali de Protezione Civile domani tornerà in Friul, Vignesi e Iulie. Dopo la visita a Palme dai 21 di marzo Stato con il Presidente del Consello Mario Draghi, Fabrizio Curcio alzerà dunque di nuovo in Regione per una visita in centrale sul tema della cedda ai dispatriati in fuide d'Ucraina. La arrivata al quartier general de Protezione Civile regionale ha le previo due, tre e miege. A Palme si darà ad un la cabine di coordenament con Curcio, il Presidente e il Vicepresidente regione, Federico Riccardi, il Direttor de Protezione Civile regionale, Aristei, i quattro prefets dal Friul, Vignesi e Iulie, i Sindics dai Comuns Capital, il Presidente da Lanci. Curcio allarà da Spò al presidi di Pringacet di Ugo Vizze per concludere la sua visita al Lab Sanitari per i cittadini ucraini in fiere a Udin. E' vero e vero tra gli sigli sindacali di sanità regionale sulla gestione dall'ospedale di Udin e delle aziende sanitarie universitarie Friul Central, cui la emorragia importante di lavoratori, certificata di tutti i sindacati, CGL, CISL, NURSIND e FIAS accusano la UIL di aver diffonduto cifre falsate in maniera volontaria per cercare i voti alle elezioni dell'RSU. I problemi esistono alla specificata Massimo Vidotto, segretaria RSU delle aziende sanitarie. I documenti uffici accertifichano una emorragia importante di lavoratori, ma che non è molto importante di fare sindacati. Willink ha dispassato e aveva puntato il detto quintri i bes, pierduts, debande di tutti i lavoratori delle aziende sanitarie, quantificati in 80 euro al mese, una cifra in assoluto vera alla displea di vidotto, che equivaleranno per tutti i lavoratori delle aziende a quasi 7 milioni di euro ad anno. A son 282 i nuovi casi di Covid-19 scuvierti in regione, a fronte però di dome 3.300 cuttoardi stamponi tra molecolari e svelti. Dicevoti casi in tessanità regionale, due operatori infettati in strutture, gli spai anziani, due le vittime con però un'aumenta e ricoveri, sedi in terapia intensive, come siete, che anche gli altri reparsi, come 144. Una necropoli alta e medievale è stata dichiarata a Cordenons in località ad Manera dentro i degiave Gleris, sante Foschie. I sghiar faiere in guardiaz zade e sovrintendence per vicinance di un complesso in età romane. A son stadi s'individuadis fin cumò dicevoti sepulturis diversis già prejudicadis di araduris passadis. Pocs gli elementi di avventari cum pietins di vues, strumenti di telar, un rinchin di ram e qualchi ceramiche. Peplui par, a son femminis che da urdes primis investigazion storichis apodaressin gli essisi insediadis tra li sruvinis de ville romane dongi dopo il suo abbandono de bande dagli abitants originai. Con fartesanati imprese dal Friul Vinesi e Iulia la presenta un new servizi di assistenza legal pe s'aziendis dal settor des comedadis di carrocerie e soccors stradal pe gestion des controversis cum liss'assicurazion. A son plui di mil e cincent in liss'aziendis di questo settor presentis in tenestra region un alban cul cin mil dipendenzi. Sperin non sirvi mai a e tutte le estreme ma ho simpronso aiudalissi imprese in ogni mut han displeat Giuliano Grandene, Oscar Zorgnotti e Ruggero Scagnetti che ha gruppe regionali dai Carocirs, dai Mecatronics e dal soccors stradal in Confartesa Nard. Si è vierte cu la consegna de bandiere dal Friul dal Sindic di Udin Pietro Fontanini a Kel Divi Pietro Gerometta la 45esima edizione de fieste de patrie dal Friul par celebra in ufcen e 45 ans de concessión al Patriarche di Aquilè che è stato in presenza di una frazione che ha tra 20 km e che la vuol dire una gestione particolarmente difficile che è la gestione che tutti i sindici purtroppo approvano in quel momento qui e soprattutto è anche ma più difficile per via delle pandemie che sono state e che è un posto che le vie tornano a cominciare proprio per far capire le difficoltà ma anche le prospettive dai sindici e dalla lingua furlana dal Friul che ha avuto un sodoman dal do differente dopo le pandemie alzare la bielecce del Rezón il titolo delle decime e ottave mostre di 10 in programma dai 15 di mai ai 16 di ottobre una quarantina li sopari si mostre che avan d'età di miec fin al novecent che appandentri anche Caravaggio Moro e Tissò 10 al Drecce la chialade a Rezón a esso bielecce a sfidi che gli è clamati affronta alla displeata Alessio Geretti curador dei mostri di 10 la mostra sarà visitabile Picciui Groups che entreranno in tessali sorganizzati anche per Picciui Teatris e continuerà anche la sanificazione continua e l'atmosfera in ogni sale alla Concludut Geretti con un sistema di alte tecnologie compatibile con la salute delle persone e con che da sopar di arte e gli è tornata dopo tre anni la mostra è marchiata ornitologica di Blesan che la sua ultima edizione si è riettignuda prima delle pandemie un segnale importante di ripartenza secondo il Presidente del Consello regionale Piero Mauro Zanin Sintinglu Io credo che a Blesan con che fieste con che mostre che assegni una ripartenza dal Friul dalle famiglie dalle imprese dalle associazioni che dopo tantchi anni due anni che sono stati fermi sono arrivati comunque hanno piardito l'entusiasmo di fare la voce di costruire di chiatarsi di fevelare di commercializzare le robie di portare a Viodi che hanno avuto le loro chiasi le loro aziende allora credo che è un momento di grande orgoglio anche di grande speranza per il futuro e quindi su questo credo che è di essere contenuti di queste giornate dell'associazione del Proloco di Blesan che hanno organizzato queste cose di cui sono venuti a Esponi dai cittadini che sono venuti a Viodi quindi credo che è un bel momento di un Friul che riparte con grande voce di fare con grande voce di dimostrare che assinché si può l'indennante con coraggio e perché stasera è alle 12 torniamo a Viodi domani buone serate mandi a viodi a a a Grazie a tutti.